Arrestato mentre tentava la fuga da Cuneo, il filippino che ha coltellato la proprietaria di casa durante una rapina, nella notte tra lunedì e martedì i due si conoscevano. Sono andati a prendere i figli a scuola ubriachi a Saluzzo, denunciati tre genitori per guida in stato di ebrezza. Il 30 novembre e il primo dicembre le giornate FAI d'autunno permetteranno di scoprire tre luoghi speciali del centro storico di Cuneo. Un saluto cari telespettatori dalla redazione di Telegranda, ben ritrovata in una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura torniamo sulla rapina in villa avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Cuneo. Si chiama Christopher Vergare, ha 24 anni, è nato nelle Filippine, ma residente a Cuneo, il rapinatore che ha coltellato la proprietaria di casa, ancora ricoverata in ospedale. è stato arrestato mentre tentava la fuga dal capoluogo. Sembra che il giovane conoscesse la donna che stava cercando di rapinare, che stesse tentando di rubare uno smartphone ed un portafoglio contenente 8 euro. Stava pagando il conto all'hotel Torrismondi di Via Coppino, proprio in zona ospedale dove la donna, che aveva poco prima coltellato, lottava tra la vita e la morte. Christopher Vergara, 24 anni, nato nelle Filippine, ma residente a Cuneo da anni, è stato arrestato. Nella notte, fra il 18 e il 19 novembre, si è introdotto in una villetta di Via Luzzati, zona Via Le Angeli. Il tempo di rubare cellulare e portafoglio, la padrona di casa, una 54enne tecnico di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico di Cuneo, si è svegliata e scesa al piano di sotto e ha visto Vergara che per fuggire l'ha coltellata tre volte in un bagno di sangue, è riuscita a chiamare i soccorsi mentre il ragazzo fuggiva nel buio. La confessione nelle scorse ore al PM Alberto Braghin durante l'interrogatorio in questura conosceva la donna, lo aveva aiutato attraverso una conoscenza comune, anche prestandogli piccole somme di denaro. Il ragazzo era pronto a fuggire da Cuneo, ora Vergara è in carcere al Cerialdo con l'accusa di tentato omicidio aggravato e rapina. Aveva da poco perso il lavoro come operaio in un'azienda che produce biciclette. Alle spalle aveva alcuni piccoli precedenti per furto. Proseguiamo ancora con la cronaca, i carabinieri di Saluzzo hanno denunciato tre genitori per guida in stato di ebrezza. Ubriachi sono andati a prendere i propri figli a scuola e in un caso ad una festa. Ubriachi vanno a prendere i figli a scuola, in un caso al termine di una festa. I carabinieri li denunciano per guida in stato di ebrezza alcolica. È successo nei giorni scorsi a Saluzzo. I denunciati sono un uomo e due donne, rispettivamente di 30, 39 e 44 anni, tutti residenti nel Saluzzese, tutti con un tasso alcolemico di ben cinque volte superiore alla soglia tollerata. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri di Saluzzo in alcune vie del centro cittadino, vicino a scuole o luoghi di ritrovo serale e notturno di giovani. I tre trasportavano a bordo i loro figli di età compresa tra i 6 e i 15 anni. In due casi i minori erano appena stati prelevati da scuola, nel terzo invece da una festa tra amici in un locale pubblico in piena notte. I carabinieri hanno effettuato i test e poi, visto l'esito positivo, hanno immediatamente ritirato loro le patenti di guida e sequestrato i rispettivi veicoli per la successiva confisca. I responsabili dovranno ora rispondere del reato di guida in stato di ebrezza alcolica e rischiano la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Truffe affettive, scusate, l'inganno corre online. Questo è il tema del seminario organizzato a Busca per lunedì 25 novembre alle 9.30 al teatro civico dal coordinamento di genere FNPC Isle Cuneo con il patrocino della provincia e la collaborazione con Anteas Cuneo. L'associazione contro le truffe affettive di Cuneo porterà sul palco Luigi Salvatico, psicologo e psicoterapeuta, già direttore del servizio psicologia Asle Cuneo 1 e anche conduttore di una nostra trasmissione Mente e Corpo. Con lui anche Monica Beltramo, avvocato cassazionista. Sono previste le testimonianze di Chetti in Creta e Esther Bianchi. Partecipano il sindaco di Busca Marco Gallo, Maria Grazia Colombari, coordinatrice Donne Cisle Cuneo e Lina Simonetti, segretaria FNPC Isle Cuneo. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Per parlare delle giornate FAI d'autunno che a Cuneo si svolgeranno il 30 novembre e il primo dicembre. Sarà una bellissima occasione per i cunesi e non solo per scoprire tre luoghi speciali del centro storico della città. Oggi c'è stata la presentazione di queste giornate. Vediamo. Ricordati di salvare l'Italia è la campagna di FAI nazionale. Cuneo, la delegazione di Cuneo, fa la sua parte con queste giornate d'autunno un po' in ritardo rispetto al resto d'Italia, però ricche di appuntamenti e di sorprese interessantissime. Sì, anziché proporre questa iniziativa a metà ottobre come in tutta l'Italia, a causa di un piccolo problema nella sicurezza del luogo che volevamo aprire, il FAI ci ha concesso di prorogare l'apertura e quindi proponiamo le giornate FAI di autunno, in un autunno un po' inoltrato, sabato 30 novembre, domenica primo dicembre, a Cuneo, visitando tre luoghi del centro storico, quindi dietro gli angoli di casa nostra, che probabilmente non sono così conosciuti come tutti invece si aspettano. Ecco, ci vuoi brevemente spiegare quali sono questi tre luoghi e come sarà possibile scoprirli? Allora, noi porteremo i cunesi dentro al Teatro Toselli, dietro le quinte del teatro, sopra i graticci delle luci, per scoprire quello che tutti conosciamo, perché andiamo a vedere gli spettacoli, ma a visitarlo in quanto palazzo storico. Pochi forse sanno, per esempio, che il Teatro Toselli, prima di essere teatro, è stata una chiesa con l'annesso monastero, quindi con i nostri apprendisti ciceroni sarà bello portare e condurre i visitatori in questi meandri del teatro. L'altro luogo che visiteremo è il Palazzo Municipale, altro posto che conosciamo per le pratiche che andiamo a sbrigare, ma il Palazzo Municipale è anche stato l'ex Collegio dei Gesuiti, un palazzo molto importante a Cuneo, con delle bellissime sale decorate, che visiteremo e che faremo approfondire sempre a cura dei nostri apprendisti ciceroni. E poi l'altro luogo è il Chiostro del Museo Civico di Cuneo, nel complesso di San Francesco, siamo nel pieno quartiere medievale, e anche qua sarà una sorpresa scoprire qualcosa di nuovo, degli aneddoti della storia di questo angolo di Cuneo. E poi, solo per gli iscritti al FAI, una chicca che riserviamo a chi sostiene il FAI tutto l'anno, sarà possibile soltanto sabato mattina, su prenotazione, visitare, grazie alla collaborazione del Museo Civico, il fondo storico del museo, quindi entrare nei magazzini del museo e vedere e scoprire i reperti che non sono esposti al pubblico. Noi lavoriamo in profonda sinergia con la delegazione di Cuneo, naturalmente essendo un evento nazionale, essendoci formati da poco, abbiamo inaugurato il nostro gruppo al 21 di settembre, con un evento che ha avuto un enorme successo, di questo ringraziamo tutti i nostri visitatori, lavoriamo appunto in sinergia con la delegazione, in questo caso portando una visione un pochino laterale nei beni, e quindi abbiamo organizzato con i nostri giovani, sono ragazzi dai 18 ai 35 anni, la possibilità per i visitatori di avere una chicca teatrale, in cui riporteremo in vita dei personaggi storici, che sono stati studiati dai ragazzi e che verranno presentati al pubblico, soprattutto a Teatro Toselli. Venerdì 22 novembre, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale ad Alba, indetto dalle segreterie regionali dell'Unione Sindacale di base. Concentriamoci su Alba, secondo quanto comunicato dalla società Bus Company, gestore del servizio in città, gli autobus circoleranno dalle 5 alle 8, dalle 13 alle 16. Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza, entro il termine della fascia di servizio garantito. Torniamo a Cuneo, la città ha ricevuto nuovamente la bandiera gialla della ciclabilità italiana, per l'anno 2020. Il capoluogo provinciale si è aggiudicato 4 punti su 5, denominati Bike Smile, uno in più rispetto al 2018 e al 2019. La città di Cuneo ha ricevuto la nuova bandiera gialla della ciclabilità italiana per l'anno 2020, a consegnargli alla Inu, Istituto Nazionale di Urbanistica, in collaborazione con FIAB Comuni Ciclabili. Sottolinea e riconferma, perché Cuneo l'aveva già ottenuta, l'impegno è profuso dal Comune in materia di mobilità attiva e sostenibile, e in particolare ciclabile. L'iniziativa si propone di valutare, attraverso criteri oggettivi e misurabili, il livello di ciclabilità di una città e del suo territorio, e parallelamente di accompagnare e stimolare le singole amministrazioni. La valutazione infatti è avvenuta sulla base di decine di parametri in quattro aree, infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione e promozione. Il punteggio attribuito ad ogni comune va da 1, il minimo, a 5, il massimo, Bike Smile, e viene indicato sulla bandiera gialla. Ad oggi sono quindi 127 i comuni italiani che possono sventolare questa bandiera con il relativo grado della ciclabilità. L'assessore all'ambiente, Davide Dalmasso, evidenzia come Cuneo per l'anno 2020 si è giudicata 4 Bike Smile su 5, uno in più rispetto al 2018 e al 2019, grazie all'incremento delle infrastrutture ciclabili e soprattutto ad un'ottima attività di comunicazione e educazione per scuole e cittadini. Il settore viabilità della provincia, reparto di Mondo Vi, ha predisposto uno studio di fattibilità tecnica ed economica per sistemare la frana che nel 2015 avvenne lungo la strada provinciale 154 tra Viozene e Upega. L'ammontare è di 350 mila euro. L'ipotesi di progetto prevede la realizzazione di un muro di sostegno, il ripristino della carreggiata stradale, della pavimentazione, delle barriere guardrail e della segnaletica. Cambiamo ancora argomento. Questa sera, mercoledì 20 novembre, alle ore 21, torna al nostro talk show La Granda C'è condotto dal direttore Daniela Bianco. Si parlerà di giovani e futuro, riprendendo il tema che verrà affrontato in un convegno che sabato mattina l'associazione Insieme organizza a Cuneo, al centro incontri della provincia. Tra i contributi che verranno proposti durante questa puntata anche l'opinione dei cunesi su quello che secondo loro possono dare i giovani alla società di oggi. Allora, eccone un piccolo estratto. Secondo lei, un giovane in un ruolo elevato, un ruolo di leader, cosa possono portare? Quale valore ha aggiunto? Può portare il nostro punto di vista al massimo, perché conoscendo il nostro ambito e tutto... Poi magari, boh, dipende dove ha vissuto e tutto, ma più o meno la nostra età potrebbe capire un po' più di cose. D'altronde il giovane è il futuro, quindi dovrebbe portare idee nuove, dovrebbe portare cose nuove che noi non siamo più in grado di dare. Delle idee fresche. Idee fresche, bravo. Sicuramente magari delle idee più fresche, visto che la società sta cambiando molto in fretta. La tecnologia che c'è al giorno d'oggi, il giovane è più preparato, capito? C'è gente per esempio di 50-60 anni, anche se magari sono al comando, però la mentalità rimane sempre quella, pur essendoci tanta gente valida. Il giovane è un'altra era, c'è niente da fare. La gioventù ha innovazione, ha di tutto. I giovani hanno più iniziativa. Avrebbero forse bisogno di essere un pochino più aiutati. Poi sono pieni di verbo, no? Hanno poche esperienze, ma comunque si fanno le osse sul campo. Un po' preparati, ma si faranno. Ti chiedessi un esempio che ti viene in mente di giovane, ad esempio in politica, giovane in un posto che conta, che ti piace oppure che non ti piace? Adesso di quelli che ci sono? Ma in politica diciamo che adesso ultimamente non è che proprio stanno facendo delle belle figure, quindi... Giovani non lo so, mi piaceva quello che è Battisti, ma adesso si chiama Battisti, non lo so quello della... Di Battista? Di Battista, ma adesso un po' meno. Non lo saprei proprio, sinceramente. Ce n'era uno qui di Cuneo che mi piaceva abbastanza, non mi ricordo il nome, però mi piaceva. Chiara Gribaudo? Ma se sono di Cuneo, io gli faccio subito il tifo. E' campanilista in questo? Molto, molto. Non saprei cosa dirti. Non le viene in mente? No, veramente. Non mi viene in mente nessuno. I giovani della politica nostra non sono un grandissimo esempio in questo momento, quindi no. Quelli che sono nella politica sono già da un bel poli, quindi non so. Ci sono un po' stagionati, dice lei. Penso di sì, dai. Renzi medesimo, anche lui era giovane. A me piace Renzi, guarda. No, non ho sbagliato. Modifichiamo, modifichiamo, siamo qua apposta. Me è Salvini. Me è Salvini. No, non toccatemi Salvini. Per me è Salvini. È abbastanza giovane, però per me è Salvini. Eppure, bene o male, questa è una gente giovane. Sono leggera come una piuma, la lascio andare. Lei è molto gentile e simpatico. Agnese Favole, classe 1945, ha ricevuto dalle mani del parroco Don Daniele Mollo l'attestato di benemerenza arrivato dal Vaticano, quale segno di riconoscimento per l'impegno che da tanti anni svolge a favore della comunità. Lo vediamo in questa foto. Agnese ha sempre svolto l'attività di insegnante alle scuole elementari dal 1963 in vari plessi del territorio dal 70 al 98, anno del pensionamento, alla scuola di Roreto di Cherasco. Per anni ha anche fatto parte del consiglio di amministrazione della casa di riposo di Cherasco. La consegna dell'onorificenza è avvenuta durante la messa per la festa del ringraziamento che si è tenuta nella parrocchia di Bricco di Cherasco. È stata una bella sorpresa per Agnese e per tutta la comunità che con un grande applauso ha sottolineato i meriti del concittadino. Ed ora restiamo in tema religioso perché è proprio di questo che tratta l'ultimo libro del giornalista Alberto Burzio. Si intitola Uomini e donne sulle tracce di Dio e conta 40 interviste proprio a religiose e religiose. Lo presentiamo, vediamo. Settimo libro di Alberto Burzio, corrispondente della guida di Cuneo che ci ospita qua questa sera e soprattutto appunto scrittore. Uomini e donne sulle tracce di Dio, di che cosa parla il libro? Io ho 60 anni, sono più o meno 40 anni che scrivo e questa è un'antologia di 40 storie, interviste a religiose e religiosi. Qual è l'ingrediente che usi più spesso durante l'intervista? L'ingrediente? Ma io sono un po' un giornalista provocatore in senso buono. Per cui se mi capita anche la suora, la domanda che faccio sempre è tutte le suore, come è andato con l'ultimo fidanzato? E poi allora vengono fuori degli aneddoti bellissimi. È anche un libro per non credenti, volendo? Sì, è un libro che secondo me, leggendo queste storie con attenzione, è un consiglio che posso dare a chi lo prenderà, di spiluccarsele piano piano perché si apprezzano di più, affronti delle tematiche diverse e ci sono delle storie anche molto particolari. Edito dalla casa editrice cattolica bergamasca Velar, in 20 giorni è già stato ristampato. La prefazione di padre Cesare Falletti, monaco cistercense e fondatore del monastero di Pradmila Bagnolo. Il problema di Dio è un problema su cui si sono spaccati la testa generazioni di filosofi. Secondo me è una bella domanda e a tutti l'ho fatta, anche se può sembrare banale, l'ho fatta anche dei religiosi. E viene fuori anche chi ha dei dubbi ogni tanto su Dio. Ma se ce l'aveva madre Teresa di Calcutta, che è stato un colosso, possiamo credo averli anche noi che siamo dei poveri e grandi peccatori. Se leggi questo libro tu cogli che c'è un filo conduttore, queste persone ti dicono tutti in un modo o in un altro che senza la preghiera tu non ce la puoi fare. Tra i 40 religiosi intervistati, Don Bartolomeo Ruffa, Monsignor Diego Bona, Padre Ottavio Fasano, solo per fare alcuni esempi, Don Luigi Destre, ma anche Padre Ruggero Cipolla. Padre Ruggero Cipolla che è stato cappellano per 50 anni alle carcere di Torino, che ha assistito 72 condannati a morte. Ha assistito anche gli ultimi condannati a morte dell'omicidio di Villa Arbasse, l'ultima sentenza di giustizia di capitale dello Stato italiano. E gli chiedo a un certo punto, padre aveva 92 anni e sorrideva come un bambino. Sorrideva come un bambino. E gli chiedo, ma padre, ma come ha fatto ad assistere 72 condannati a morte? Lui mi sorride e mi dice, il buon Dio mi ha sempre dato la forza e non mi ha mai abbandonato. Dopo l'ampia partecipazione per la recente conferenza sulla riforma della crisi di impresa, la Banca di Caraglio chiude questo mese con un nuovo importante appuntamento. Giovedì 28 novembre alle 17.30 presso la sala Donna Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio, in piazza della Cooperazione 1, è in programma infatti la conferenza dal titolo Agevolazioni a sostegno degli investimenti innovativi, focus sulle principali opportunità nazionali e regionali, oltre ai vertici dell'Istituto di Credito Caragliese che introdurranno i temi trattati. I relatori dell'incontro saranno Mirko Azzalin, area manager dell'area nord-ovest di Warrant Hub e Cristian Ramaglia, consulente area sviluppo imprese di Warrant Hub. Ed ora la pagina sportiva, parliamo in particolare di pallavolo maschile. Lunedì sera sono stati ospiti nella puntata di Lunedì Sport, la nostra trasmissione sportiva. Due giocatori appena arrivati in questa nuova stagione della BAM Acqua San Bernardo Cuneo, formazione che milita nel campionato di Serie A3 e che sta attraversando un buon momento di forma. Noi abbiamo chiesto a questi due giocatori le loro impressioni sul livello del campionato e sul ruolo che può recitare proprio la squadra cunesi. I giocatori sono il centrale Nicolas Sighinolfi e l'opposto tedesco Marvin Prolingoyer. Sentiamo. Come lo vedete tutti e due, lo chiedo, partiamo da te magari Nicolas, questo campionato che, l'abbiamo detto diverse volte in presentazione del campionato, è un po' un'incognita perché è una nuova categoria. State iniziando a conoscerlo. Come vedete il livello e come vedete Cuneo in questo campionato? Beh, sicuramente è un campionato complicato perché viste le prime cinque partite abbiamo potuto vedere cinque squadre, cinque squadre molto equilibrate dove non puoi veramente lasciare niente al caso, devi studiare bene le partite, devi giocarle bene perché è un attimo che poi, insomma, perdi, come è successo a noi. Magari tieni la tensione alta per due set, abbassi un attimo il tiro, ti recuperano e perdi. E secondo me fino adesso anche gli altri risultati parlano abbastanza chiaro, il campionato è molto equilibrato. Tutti vincono, perdono con tutti e... E' bello. E' bello, naturalmente, il fatto che siete lì a pochi punti, state crescendo, l'obiettivo è stare là davanti. Certo, assolutamente. Noi siamo qua per questo. Certo. Marvin, il campionato come lo vedi? Come lo giudichi? Buona domanda perché questo campionato è tutto nuovo, no? E non so ancora adesso, secondo me non solo io, per tutto, come aspettiamo, perché non ho visto come come Nico valla, solo cinque o quattro oppone, no? Altri non lo so, ma secondo me questo level, non c'è male e a Cugno, Cugno è una, secondo me, una buona futura perché è una buona squadra e siamo ancora in una strada step by step e buona organizzazione e tutti, secondo me, una buona futura quando non ho il lavoro normale e così come adesso funziona buono. Come ti trovi tu a Cugno? Stai bene a Cugno? Sì, sì, bellissimo. Sì, tutto è differente. L'anno scorso a Giovele Colla e a Zut Italia è un po' più differente. In chiusura ancora una notizia che riguarda lo sport, in particolare gli sport invernali, perché grazie all'abbondante, grazie anche all'abbondante nevicata della scorsa settimana, si può già cominciare a sciare in montagna a partire dal weekend. La prima stazione sciistica ad aprire è il Mondole ad Artesine Prato Nevoso, dove la stagione comincerà già venerdì. Sabato toccherà invece alle stazioni sciistiche del Saluzzese, precisamente Piammune e Crissodo. Il weekend successivo sarà la volta della riserva bianca Limone Piemonte con il Welcome Ski Day del 29 novembre, in cui si potrà sciare a soli 15 euro. Il giorno dopo, il 30 novembre, ci sarà l'Open Official Day. Quest'anno non aprirà invece la stazione di Argentera, dove gli impianti hanno bisogno di essere rinnovati, ma la difficile situazione finanziaria del Comune impedisce interventi adeguati. Dunque non si scierà a salvo colpi di scena quest'anno ad Argentera. È tutto per questa edizione del nostro notiziario. Grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.